Quello che vedete è il presidente della Regione del Veneto e, nonostante creda alla sua regione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Quello che vedete è il presidente della Regione della Campania e, nonostante creda alla sua regione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Quello che vedete è uno dei tanti rappresentanti del cristianesimo e, nonostante creda alla sua religione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Quello che vedete è uno dei rappresentanti del buddismo e, nonostante creda alla sua religione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Quello che vedete è uno dei tanti presidenti degli USA e nonostante creda alla sua nazione segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Quello che vedete è uno dei presidenti dell'Unione Russia e nonostante creda alla sua nazione segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Quello che vedete è il presidente dell'Associazione Medici e nonostante creda alla sua missione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Quello che vedete è uno dei capi dell'Associazione Medica Alternativa e nonostante creda alla sua missione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Quello che vedete è uno dei tanti guru dell'informazione alternativa e nonostante creda alla sua missione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Quello che vedete è il presidente dell'Associazione Giornalisti Indipendenti e nonostante creda alla sua missione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Quello che vedete è il responsabile dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e nonostante creda alla sua missione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Ma il televisore da chi è nutrito? Attraverso l'indice alfabetico, dalla pagina web www.tinelli.eu scorrete fino alla voce quali sono le società che controllano il 96% dei media di tutto il mondo del 10 febbraio 2018.